Ecco a voi lo sceriffo McKay. Sono andato a vinto il giorno a venire qua all'Italia a provare una cavalla. Questo è arabo? Dove venire? Afganistan? Sì mio fratello sta a casa a Palisano. Siete pronti a caloppare con questa cavalla? Sì! Guarda quello! Oltre la porta! La glosera, la faccia la paraccia! La curta, la curta! Mi stai a ferro! Tu ci sei andato a fare! Ohhhh! Comemo. Per ieri céu! Didi racconto? ooooh eeeh uoooooh uoooh uoooh con il mignone a luce a luce a luce a luce a luce a luce Ahahahah